buongiorno eccoci con il consueto aggiornamento domenicale che tento di fare sulla situazione covid a mugnano approfitto di questo spazio sempre per darvi delle informazioni che spero possano sempre esservi utili esserci utili volevo ecco innanzitutto dire subito un po la situazione per quanto riguarda il numero di contagi presenti nella città di mugnano siamo intorno alla ventina sostanzialmente resta invariato più o meno il numero di persone attualmente positive perché se è vero che ci sono stati nuovi casi anche in questi ultimi giorni è anche vero che nel frattempo ci sono stati anche nuovi guariti per cui siamo riusciti al momento a mantenere inalterato quello che è il numero complessivo è importante il fatto che dobbiamo rispettare le regole tutti sappiamo che la mascherina è obbligatoria sempre a tutte le ore e voglio poi un po parlare anche di quello che è la situazione scuola finalmente come sapete poi siamo riusciti a partire con le scuole con ovviamente grandi difficoltà ma questo noi lo sapevamo ma l'importante è essere riusciti a almeno iniziare mi rendo conto che la situazione voglio dire non è sempre semplice l'altra volta se vi ricordate nell'ultimo video avevo parlato della importanza della collaborazione non solo da parte del comune ma da parte ovviamente dirigenti scolastici del personale ata degli alunni e dei genitori ecco forse devo dire approfitto di questo video che proprio i genitori sono stati sono in questo momento l'anello debole della catena alcuni purtroppo sono proprio di cattivo esempio verso i propri figli rispetto alle misure di prevenzione per quanto riguarda il covid altri chiedono improvvisamente le chiusure della delle scuole o di una scuola perché voglio dire ci sono questi gruppi whatsapp dei genitori che alimentano isterismi e allarmismi che spesso sono infondati allora esistono delle norme ben precise come sapete ascoltate e fidatevi ciecamente di dirigenti scolastici e delle asle nessuno a meno che non siete voglio dire che tra i genitori ci sono a meno che non siete dei medici ma voglio dire ci sono delle procedure che vengono osservate e vengono seguite tra poco arriverà l'influenza stagionale è inevitabile oltre a invitarvi ovviamente alla alla vaccinazione è evidente che una serie di sintomi faranno parte dell'influenza stagionale e non vorrà dire che necessariamente si tratta di covid quindi invito veramente da questo punto di vista a mantenere la calma a non alimentare voci di un certo tipo perché così ovviamente diciamo non aiutiamo chi come me e come dirigenti provano a far andare avanti un servizio che è quello scolastico e che è evidente che è molto meglio rispetto alla didattica a distanza è molto meglio perché ovviamente diciamo anche i feedback che ne derivano dall'apprendimento agli alunni sono diciamo nettamente migliori ancora voglio dire questo è stato importante per noi riuscire a far partire la scuola abbiamo evitato i doppi turni cosa non scontata ad esempio ad aversa stanno facendo i doppi turni e vedete ci sono tanti sforzi che sono stati messi in campo cerchiamo veramente di non di non rovinarli con pressioni io dico inutili su quelli che sono gli organi che oggi cercano di far andare avanti la scuola facciamo lavorare in tranquillità i professori facciamo lavorare in tranquillità il personale amministrativo e i dirigenti voglio anche dire questo e lo dico in maniera chiara non si può fare questo dico ancora a qualche genitore non si può chiedere la chiusura delle scuole perché si teme il contagio e poi voglio dire facciamo in modo che i nostri figli i vostri figli li facciamo andare ovunque li facciamo assembrare per strada o in altri luoghi di aggregazione credo che sia un gigantesco controsenso allora invito tutti veramente a fare un esame di coscienza ancora voglio sottolineare un altro aspetto importante dobbiamo dare l'esempio ho visto qualche scena che non mi è piaciuta in qualche scuola non è possibile che ci sono genitori che si assembrano dopo aver accompagnato il figlio a scuola a fare quattro chiacchiere come se stessimo nella situazione di normalità noi non siamo nella situazione di normalità noi siamo in una pandemia mondiale c'è un'emergenza sanitaria e non è accettabile un comportamento del genere volete accompagnare figli a scuola lo accompagnate poi ve ne andate a casa poi andate a fare le altre attività non si può chiacchierare purtroppo ok questo diciamo è un'attività che probabilmente prima si poteva fare con tranquillità adesso non si può fare più se dovete dire qualcosa appunto questo può essere di urgente di importante questo può essere il momento eventualmente di prendere il telefonino in mano e utilizzare la comunicazione a distanza detto questo voglio anche sottolineare ricordare le multe di 1000 euro per chi non indossa la mascherina poi quando comincerò a pubblicare le multe direte il sindaco è cattivo ma non potrete dire che il sottoscritto non vi ha avvisato vengo ancora un'altra notizia che ovviamente non fa piacere ma siamo in una situazione chiaramente emergenziale che è quella della legata alla festa del sacro cuore di gesù che purtroppo come sapete sia accaduto anche in altri comuni ma anche l'ultima ordinanza del nostro governatore de luca precisamente la numero 75 del 29 settembre all'articolo 1 comma 4 sospende chiaramente quelle che sono attività di feste fiere sagre ogni attività che non si svolga in forma statica o compostazioni fisse questo che vuol dire che non è tanto e solo il fatto che non faremo anche per una questione voglio dire di opportunità i festeggiamenti civili e che quindi sono sospesi e rinviati chiaramente al prossimo anno ma sarà impossibile effettuare anche la processione per ovvi motivi perché ci sono assembramenti e perché espressamente vietato perché non si svolge in forma statica cioè fissa ferma quindi sarà solo diciamo faremo verrà fatta solo la festa diciamo di carattere religiosa ovviamente in tono dimesso ma soprattutto dovremo fare uno sforzo e questo sarà il compito che mi vedrà impegnato con il comitato del sacro cuore e con il santuario del sacro cuore per assicurare che le messe che noi ci auguriamo siano nel maggior numero possibile non vedano appunto la presenza di assembramenti e riusciamo quindi ad assicurare una certa fruizione e gestione diciamo della della situazione proprio in questi giorni affronteremo anche questo tipo di tematica ancora ed eventualmente vedremo lo dico subito di assicurare anche con il mezzo televisivo con dirette anche su internet quelle che sono le funzioni religiose al fine diciamo di farsi che le persone restino a casa e non si assemblino al santuario voglio concludere questo video ovviamente a meno con una notizia una buona notizia vabbè da ieri il comitato ufficio centrale mi ha proclamato ufficialmente sindaco sono sindaco per la seconda volta con un con numeri che conoscete risulta essere il secondo sindaco più votato d'italia in questa giornata elettorale veramente non smetterò mai di ringraziarvi per questo risultato che mi rende orgoglioso che ci rende orgogliosi me tutti i consiglieri comunali tutta l'amministrazione vi ringrazio ancora per questa fiducia e vi invito però appunto ad avere questa fiducia e ad ascoltare quelle che sono le indicazioni che di volta in volta vi darò anche tramite questi video grazie grazie